A me, più che a me, a Eder, Eder Parisi questa volta ci farà un balletto eccezionale. Potrei dire che lo spettacolo continua, anzi più che continua, sale, cresce. Il tema del balletto è l'allegria. Eder Parisi! Il tema del balletto è l'allegria. 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 è l'allegria. è l'allegria. è l'allegria. è l'allegria. è l'allegria.